Detto e fatto, la Regione Calabria gestirà gli aeroporti calabresi. Avevo annunciato che avremmo acquisito le quote dal socio privato della società che gestisce gli aeroporti e oggi abbiamo concluso formalmente la trattativa. Fincalabra ha deliberato l'acquisto delle quote ad un valore inferiore al valore nominale. Gli aeroporti sono troppo importanti per lo sviluppo turistico della Regione, perché la Regione possa svilupparsi anche economicamente e la Regione ha interesse a sviluppare gli scale aeroportuali, quello di La Menzia, quello di Reggio, quello di Crotone, attraverso risorse che renderemo disponibili nei prossimi anni e attraverso una interlocuzione più forte con i vettori, con l'Unita e con le compagnie low cost. Detto e fatto.